A tutti sarà capitato di usare un compasso per fare cerchi, ma secondo me questi altri strumenti non li avete mai usati. Questo coso. L'aspetto è intrigante ed è soddisfacente vedere le lamelle che si allargano e si restringono, ma a parte che non ha un vero e proprio nome, poi non puoi fare cerchi più grandi di così. Boh, onestamente preferisco il cerchiografo. Una semplice maschera che permette di fare cerchi a grandezze preimpostate, ma se devo scegliere il mio preferito allora è il goniometro Helix. Puoi fare cerchi sfruttando le maschere, questi buchetti o persino tracciare angoli a specifiche gradazioni con molta precisione. Ma vi confesso che in realtà ho tanti altri strumenti strani per fare cerchi. Volete scoprire anche gli altri nella parte 2? Fatemi sapere perché...